Salve a tutti. Il gioco che vi presenterò oggi per la rubrica Random Gameplay è Superhot Mind Control Delete. Un po' di mesi fa l'ultim di Superhot ha infatti rilasciato, con molto ritardo, un'espansione stand-alone like del suo gioco. Gioco che ho adesso acquistato approfittando dei salvi estivi di Steam. Il gameplay, che potete vedere anche a schermo, è lo stesso dell'originale Superhot, ma in questo caso giocheremo in livelli generati casualmente e con la morte permanente. Per chi ancora non lo conoscesse, Superhot è un FPS in cui il tempo nel gioco si muove soltanto quando si muove il giocatore. Questo consente di creare una sorta di gameplay alla Matrix, in cui è possibile schivare i proiettili. Il game over, nel gioco originale, si ha quando si viene colpiti anche una sola volta da un nemico. Lo scopo della partita è ovviamente uccidere tutti i nemici rossi che si trovano sulla mappa. Rispetto al gioco originale, in questa espansione è possibile ottenere vite aggiuntive andando avanti nel gioco, così come sbloccare nuovi perk giocando le partite procedurali di una campagna associata al gioco stesso. Anche se detta così il gameplay di questo titolo sembra banale. Vi assicuro che la difficoltà è abbastanza elevata e, come in tutti i Roguelike, si muore spesso. Un paragone con questo titolo va sicuramente fatto con un altro gioco che ho già recensito in questo canale e che per primo ha implementato una modalità simile Superhot su livelli generati proceduralmente. Questo gioco si chiama Unloved. La sua recensione l'ha trovata in descrizione o cliccando sul link a schermo. Unloved è in realtà un FPS horror roguelaic, ma con molti mesi di anticipo rispetto al team di Superhot, ha implementato una modalità di gioco simile. Dopo aver provato entrambi i giochi, si può dire quindi che Superhot si è riuscito a superare il suo allievo. Beh, di sicuro il principale vantaggio del gioco con gli omini rossi è la brevità dei livelli. Giocare Unloved in Hot Mod è infatti un'esperienza davvero eterna. D'altro canto però, almeno secondo me, Unloved ha dalla sua l'atmosfera horror, che giocata in Hot Mod guadagna molto. Il prezzo più basso ed anche una grafica a mio parere più carina, nonostante le critiche che ha ricevuto. La cosa che prima di concludere il video voglio farvi notare, è che nell'espansione roguelaic di Superhot, nelloved hanno una video recensione su YouTube in italiano. Voi vi chiederete come mai, giusto? Beh, la risposta la si può ottenere andando su Steam ed indagando come i vari recensori hanno ottenuto le copie dei giochi che recensiscono. Beh, sono quasi sempre gratuite. In pratica funziona così. La casa produttrice chiama lo YouTuber via messaggio privato e gli chiede di recensire, nel bene o nel male, il suo gioco. In cambio lo YouTuber, nella peggiore delle ipotesi, riceve solo la fee del gioco gratuitamente, mentre nella migliore anche soldi o hardware. Questo però cosa comporta? Comporta che solo le case di produzione disposte a pagare, oppure già molto famose, possono permettersi di avere recensioni. Fra l'altro poco importa se queste siano positive o negative. A ben guardare, i, tra virgolette, giochi di merda, vendono comunque un casino. E questo è anche grazie agli YouTuber che li pubblicizzano, invece che lasciarli morire nel dimenticatoio. Questo meccanismo perverso alla fine paradossalmente porta soldi nelle case produttrici che rilasciano merda, a scapito magari di quelle buone. Inoltre impedisce la pubblicizzazione dei giochi gratuiti open source. Io stesso, nel mio piccolo, dato che sono un canale con pochi iscritti, ho ricevuto richieste di questo tipo. Richieste che ho puntualmente rifiutato. Facendo un altro lavoro per sopravvivere, preferisco acquistare io i giochi che voglio prima giocare in modo approfondito e poi magari recensire. Sempre che acquisti i giochi che poi recensisco, perché, come potete vedere, molti giochi di cui ho discusso sono gratuiti. Ma non per questo non innovativi o importanti. Pensate ad esempio a Noctis o a Freedom. Con questo, oltre ad avere la coscienza pulita, spero di continuare ad offrirvi contenuti imparziali, oltre che in grado di intrattenervi. Novità sono anche in arrivo in questi giorni, con il proseguo della rubrica No Music Sky, usando l'aggiornamento Next, del gameplay di Planet Explorers, e con l'avvio di una nuova serie, che sarà qualcosa di unico nel panorama di YouTube Italia. Nella speranza di avervi incuriosito, vi do il solito arrivederci alla prossima.